Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha elogiato la Corea del Sud per i suoi impressionanti sforzi nell'ospitare il Nord ai giochi di Pyeongchang. Kim ha chiesto un ulteriore ravvivamento del caldo clima di riconciliazione creato dalle Olimpiadi Invernali. Dal canto proprio il presidente sudcoreano Moon Jae-in, che in quattro occasioni si è incontrato con l'inviato di rimpettaio, ha affermato che gli Stati Uniti sono aperti a parlare con il Nord. Presenti tutti insieme alla cerimonia di apertura dei giochi, il vicepresidente statunitense Mike Pence ha laconicamente affermato «Se vogliono parlare, parleremo», mentre drastica è la posizione del premier nipponico Shinzo Abe, il quale si dice convinto di mantenere la pressione sul Nord. Chiaro invece l'obiettivo della Corea del Nord, che con la presenza della sorella minore del leader è riuscita a riaprire un dialogo con Seoul, nella speranza di lenire le sanzioni che attanagliano il paese. Grazie.